Lo sapevate che nel cinema internazionale il dentista è sempre stato dipinto come un torturatore a partire dal maratoneta per arrivare al film famosissimo del 1996 The Dentist che racconta del dottor Alan che dopo aver scoperto il tradimento della moglie le estrae tutti i denti uno per uno. Lo sapevate che negli ultimi anni la figura del dentista nei film ha assunto un aspetto più ironico e goliardico come in Django e Una notte da leoni? E come dimenticare i pesciolini di Nemo nascosti nell'acquario che criticano e commentano le procedure del dentista in diretta? Lo sapevate che alcuni attori hanno i denti finti a causa di incidenti sul set Harrison Ford si è scontrato col calcio di una pistola e Biggo Mortensen sul set del Signore degli Anelli ha rifiutato qualsiasi controfigura risultato due denti rotti durante il duello con un orco Wow 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 Is that going to be a car? Wow Wow Grazie a tutti.